Contrattualistica con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal mercato, assenteismo, corruzione, non corretta gestione delle risorse, opere pubbliche non ultimate, indebita percezione di fondi post-sisma. L'Abruzzo non è esente da casi di danno erariale, responsabilità a carico di amministrazioni pubbliche o dipendenti pubblici, anche se non si segnala per essere una regione in cui si spende peggio che in altre. A dirlo è il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che fa il quadro dell'andamento della giustizia erariale e delle sue prospettive a tre giorni dall'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 per l'Abruzzo. La relazione nel dettaglio su numeri e andamento verrà illustrata in quell'occasione, venerdì 22 febbraio, nella sede della Corte dei Conti all'Aquila, ma intanto emerge un dato, il danno erariale per il 2018 si aggira tra i 3 e 4 milioni di euro. Sono stati tanti fatti specie che riguardano la contrattualistica, quindi contratti sia attivi che passivi con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal mercato, che il mercato dovrebbe suggerire. E quindi in relazione proprio a questo fenomeno, quindi anche quello degli appalti, dei contratti in genere, si verifica ancora il fenomeno della corruzione, perché esiste ed è diffusa su tutto il territorio nazionale e anche l'Abruzzo fa la sua parte. Poi vi sono opere pubbliche non ultimate o comunque opere pubbliche i cui costi sono rievitati a dismisura nella loro realizzazione. Poi ancora vi sono stati casi di assenteismo, moltissimi. Poi ancora vi sono stati casi di indebita percezione di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma del 2009. La burocrazia svolge un ruolo in negativo. Spesso si è introdotto lo spoil system, ma è uno spoil system all'italiana. Per cui assai spesso la burocrazia frena le scelte degli amministratori pubblici, come assai spesso gli amministratori pubblici forzano la volontà dei dirigenti. Per cui assai spesso la burocrazia frena le scelte degli amministratori pubblici, come assai spesso gli amministratori pubblici.